Dal trattamento chirurgico a quello endovascolare, l'approccio sugli ematomi subdurali cronici oggigiorno è sempre più multidisciplinare. Sul tema si è discusso nell'ambito di un appuntamento organizzato all'Hotel Royal Continental di Napoli. Durante il congresso medico approccio multidisciplinare agli ematomi subdurali cronici, coordinato dai dottori Giuseppe Catapano e Mario Muto. Tra gli ospiti anche Antonio D'Amore, direttore generale del Cardarelli, e Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asla di Napoli. Ci ha detto di più sul tema cardine del congresso il dottor Giuseppe Catapano, del reparto di neurochirurgia dell'ospedale del mare. Il senso è quello di evitare a pazienti spesso anziani con comorbidità importanti un intervento chirurgico che è comunque delicato e soprattutto spesso si tratta di pazienti che fanno uso di terapie anticoagulanti che è difficile sospendere per i rischi che questo comporterebbe. Quindi la terapia endovascolare laddove indicata può fornire a questi pazienti in un'opportunità importante. Ascoltiamo anche il dottor Mario Muto dell'unità operativa complessa di neuroradiologia dell'ospedale Cardarelli. Molto spesso questi pazienti affetti da questa patologia sono pazienti anziani dove un'eventuale anestesia generale chiaramente può creare problemi molto importanti, hanno delle comorbidità in cui il geriatra chiaramente può dare informazioni molto utili e appunto come è stato detto l'approccio multidisciplinare è quello che poi può fare la differenza in questo tipo di patologia.